e bella tutela che ci sono messo un video sono l'autorità e oggi andiamo a giocare a paper.io3d cioè mi sono appena scaricato paper.io3d cioè ce ne rendiamo conto? sì non ci credo neanche, ho cliccato a casaccio e mi ha ammesso, ho dovuto, ce l'ho un gioco però tanto la posso installare tanto me voglio chiamare pat pat vabbè no 08 oh porco, 2 vabbè mi chiamo seu vabbè, no dai oh, andiamo di vicino oh mio dio 08 no, ii ita vabbè ho scoperto che non posso mettere più di così puttango di loro vabbè, dai, no no, dai ok, come si deve fare no, spero io sono diventato tre no, però, 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 ma non ci sono capi niente ma che è sta roba che è, che è, che è, che è, che è ultima kill sono bravo no, moni, mannacchi tuo si, io so bravo a power, però, sto qua, mmmm, difficile cioè, non è che non so bravo eh, come fanno una mazza ah, beh va bene ma porco 2 no, non fai niente ah, dai, ci ho fatto, dai ma ho delle skin? no, non posso avere skin no, nessuno non ci stanno, non esistono proprio le skin ecco ah, no no, l'ho ucciso forco 2 è strano ma ecco quanto vado che è morto cioè, ma poi è stranissimo per bello, dai non è tanto brutto se non ci si capisce niente ma ce la sono diventata cioè, mh oddio va a far fan bene sono su will, forco 2 ok, dai Dio, che volevi ok, è morto mori? oh, ma non morono sono tutti hacker partite degli hacker ah, Zood no, 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 no che infame quello là mori? eh, raga ce la sto a fa' no, è difficile l'ho avuto in anteprima sto gioco lo so perché chi me l'ha consigliato però l'ho avuto in anteprima tipo come con il maledetto ninja che può fare tutta in anteprima cioè, vabbè è bravo però tutta in anteprima con due vabbè, dopo non sai kill oh, ma ne vediamo niente no, è locco che si possono spru... ah, che fighi vabbè ma personalmente non si possono cambiare peccato Dio ma tu cioè, ti puoi ammazzare te? cioè aspetta voglio fare una prova cioè se giù proprio al punto io se facevi così vabbè ci ho aperto però è bello però troppo troppo strano eh, infatti è 3D ma vediamo se lo completo tutto ma no sarebbe bello ma che è? guarda si possono vedere vabbè soprattutto anche quanto sta di grandezza porca miseria vabbè allora questo video finisce qua spero che vi è piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi